Freddy è tutto, Marco! Da piccolo era già un po' strano. Sei pronto, figliolo? Ma da grande... È ora di prendere la medicina. Andò ancora peggio. Grazie, signore. E fu l'inizio della fine, per Freddy. Ogni città ha la sua maledizione. Figliolo, è vietato urlare al conducente, eh? Lui vuole il controllo della tua mente. Dobbiamo distruggerlo a tutti i costi. E questo è un colpo da mille punti. Sembra di stare a Twin Peaks. È una questione tra me e lui. Attento! Nightmare 6. Il meglio ve l'abbiamo tenuto. Per la fine.